Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Dopo il voto si tirano inesorabilmente le somme e quello che emerge è una crisi del Movimento 5 Stelle che riporta a galla quelle che erano anche tensioni e polemiche con un duro attacco da parte di Di Battista che parla della peggior sconfitta per il Movimento. D'altra parte c'è un'affermazione da parte del Partito Democratico che adesso intende avere un cambio di passo da parte del Governo e spinge soprattutto su alcuni aspetti importanti su cui rilancia, in particolare sul MES e sui decreti sicurezza. Sui giornali di oggi naturalmente si parla anche di altri argomenti, il Covid in primo piano per quanto riguarda l'Europa c'è un incremento dei casi, sappiamo soprattutto in Gran Bretagna, Gran Bretagna che corre ripari adottando alcune misure ma di Covid ha parlato anche Trump nel suo intervento all'ONU parlando di virus cinese e tornando ad attaccare Pechino su questo. E poi la vicenda di Suarez del finto esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Allora partiamo subito con le prime pagine dei giornali e partiamo con il Corriere della Sera. Governo, il PD chiede il rilancio, Zingaretti, noi primo partito, ora le riforme e un piano per il MES, Conte che esclude il rimpasto, l'Ite del Movimento 5 Stelle, Di Battista, la più grande sconfitta, Trento e Manto va al centro-sinistra, Venezia al centro-destra e spread giù. Parlano i protagonisti di queste elezioni, parla Bettini, il Premier rinforzi la coalizione, Toti, Matteo non sa gestire i legami con gli alleati, c'è un'intervista poi per quanto riguarda il fronte del Movimento 5 Stelle, l'ex ministra Lezzi, il movimento così rischia di scomparire. E poi c'è l'analisi appunto dei flussi, Vittorio e Demi, i voti dei 5 Stelle a Zaia e a De Luca. Oggi c'è un'intervista a Matteo Salvini sul Corriere della Sera, Meloni cresce, bene dice, ma basta, sbagli al sud. Ancora vedete a centro pagina l'esame farsa di Suarez, non spiccica una parola, ma l'abbiamo instradato e poi le telefonate tra l'Ateneo e la legale della Juventus. Un fatto di cronaca in primo piano sul Corriere della Sera. Andrea, no, l'arbitro ucciso con la fidanzata. L'indizio, l'urlo della ragazza. Sono stati aggrediti e uccisi a coltellate nel loro condominio. Daniele De Santis, appunto questo arbitro di 33 anni e la fidanzata. L'apertura del Movimento della Repubblica è sempre dedicata alle questioni politiche. Movimento 5 Stelle, la resa dei conti di Battista all'attacco con questi leader, una sconfitta epocale alle regionali. Fico che dice no alla guerra tra bande. Lo scontro interno mette a rischio una maggioranza al Senato. Conte che dice non mi sento in billico e nessun rimpasto. Zingaretti, fase nuova, subito riforme e decreti. Sicurezza e ancora per quanto riguarda i flussi elettorali, il crollo dei populismi persi in un anno 3,5 milioni di voti. Poi il segretario della Lega, la scommessa di Salvini, prendo Roma e Milano, sarà la mia rivincita. Oggi c'è un'intervista riportata su Repubblica al Ministro della Salute e Speranza. Il virus fa ancora paura, ma la cura è vicina. E poi in taglio basso si parla appunto naturalmente dell'esame beffa di Suarez. Poi di Trump alla Cina, un altro attacco. Covid, colpa vostra, dovete pagare. Apertura della stampa, anche questa politica. Conte sposta il governo a sinistra, sia al dibattito sugli ussoli e i nuovi decreti sicurezza. C'è un'intervista oggi a Orlando sulla stampa, senza messa, sanità ai privati. E poi ancora 5 stelle, PD a due punti dalle destre per quanto riguarda l'analisi. Ancora c'è una proposta per quanto riguarda i migranti sul tavolo della Commissione europea. Il piano OE sui migranti, accoglienza facoltativa. Quindi nessuna ridistribuzione automatica. Questa appunto potrebbe essere la proposta della Commissione di cui appunto si dovrebbe parlare proprio oggi. Il piano del Movimento 5 Stelle, via dalla Raggi. L'offerta 5 Stelle per i Dem, Zingaretti, vicepremier, candidato condiviso per Roma. In cambio la Lombardi avrebbe l'appoggio di PD per diventare il nuovo presidente del Lazio. Oggi ci sono due interviste sul messaggero, sul fronte politico una a Guerini, ora il PD è più forte, cambia l'agenda di governo. Un'altra alla Meloni, il leader del centrosinistra, chi prende più voti. Ancora a centropagina questa fotografia che riguarda le questioni del Movimento 5 Stelle. Disfatta grillina e Di Maio festeggia la cena per preparare la scissione. Sul messaggero si parla della questione Covid, Italia contagi stabili, ma Lazio da record. Ora preoccupa Roma, quattro morti in un giorno nella capitale. Mercato del pesce, formia, ipotesi, zona rossa. Per quanto riguarda l'aspetto europeo, c'è l'annuncio del premier britannico Johnson, lockdown all'inglese, controlla l'esercito con la chiusura anticipata di pub e di ristoranti, di lavoro a casa, smart working per tutti quelli che possono farlo. Andiamo al sole 24 ore, quotidiano e economico. L'Unione Europea aiuti del recovery nella manovra. La lettera di Dombrovskis e Gentiloni ai governi. Tenete conto del piano delle riforme confermato che la deroga al patto di stabilità continuerà anche nel 2021. E poi ancora autostrade, no lo scorporo, senza cassa depositi e prestiti. C'è lo stop del governo d'Atlantia, spunta l'aumento di capitale e riservato a cassa. Bene, ci fermiamo per qualche minuto e riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del fatto quotidiano. L'alleanza Movimento 5 Stelle PD l'hanno fatta. Gli elettori, flussi nelle urni, istituto Cattaneo, un grillino su due, ha votato Gianni. Il 20% ha scelto Emiliano. Il foglio da cui vi volevo segnalare, intanto a firma di Claudio Cerasa, recovery Salvini, oltre le regionali all'Italia servono posizione in grado di scommettere più sulla negoziazione e meno sull'indignazione. Salvini è il dramma di un'alternativa che in un mondo che cambia è incapace di cambiare se stesse. E poi a firma di Giuliano Ferrara, i simpatici fischi per fiaschi del popolo del no. Apertura del giornale. Conte si piega al PD e i grillini esplodono. Il Premier cede subito alla sinistra. Via decreti sicurezza, Movimento 5 Stelle persi, milioni di voti. Dibba è la sconfitta, peggiore. Libero, se siete coerenti, tagliate subito. Non si può aspettare il 2023 per dare seguito alla volontà degli elettori. Colle e Parlamento trovino un accordo per indire presto nuove elezioni. Conte, l'avvocato del popolo, oppio del populismo. Apertura del manifesto dedicata alla questione del Movimento 5 Stelle. Stelle astrisce il titolo che parla di questa debacle alle regionali. Ancora il resto del Carlino, anche qui caos grillino e no di Conte al rimpasto. Il tempo ora cambiate spartito. Il centrodestra non ha affatto perso le elezioni a una regione in più. e Nicola Zingaretti non le ha vinte. Non c'è stata la spallata sperata al Governo da qui al 2023. Allora bisogna abbagliare meno e mordere di più. Titola il tempo. Questa mattina la verità. L'Unione Europea dà subito gli ordini al Governo. Noi decidiamo, voi mettete i soldi. Altro che pioggia di miliardi. L'anno prossimo sarà erogato al pene il 6% del recovery fund. Ma attenzione, i fondi per progetti scelti a Bruxelles. Dovrà anticiparli l'Italia. Poi, se tutto andrà bene, saranno rimborsati. Ancora vediamo anche l'apertura dell'avvenire. Eccolo qui. Mai senza cure. La congregazione per la dottrina della fede. La morte non è un diritto. Suicidio assistito. Un crimine. L'eutanasia. Sacramenti incompatibili. E poi ancora Zingaretti che spinge Conte. Cambia i decreti sicurezza. Ancora dal mattino. Eccolo qui. Giunta. De Luca frena l'assalto. Il governatore centristi. Molte conferme. Squadra tecnica. Non cede sanità, cultura e agricoltura. E poi ancora Mattarella. Siani. Esempio per tutti. Le mafie perderanno. 35 anni dopo l'assassinio del giornalista del mattino. Di cui appunto oggi ricorre l'anniversario. Allora andiamo subito nelle pagine interne dei quotidiani. Partiamo dalla Repubblica che fa il punto della situazione sulle questioni dei 5 Stelle. Nei 5 Stelle tutti contro tutti. Diba che attacca. Rischio di scissione. L'accusa a Di Maio. È la nostra più grande sconfitta. Fico che dice no a guerre per bande. Sia leadership collegiali. Io ci sto. Domani i parlamentari riuniti negli stati generali. Ma insorgono i consiglieri regionali. Vogliono partecipare. Veleni sulle chat interne. Un ministro avverte. Questo è il crollo del movimento. Questo schema ci racconta com'è appunto al momento la spaccatura nell'ambito del movimento e le varie alleanze. Ancora l'ex capo politico nel mirino di tanti getta la croce addosso a crimi. Si parla anche sulla Repubblica. Di oggi delle priorità. In questo momento del colle. Entro due mesi i correttivi al taglio dei parlamentari. Mattarella chiede il ridisegno dei collegi elettorali. Grande attenzione sui fondi dell'Unione Europea. E poi c'è la questione di Conte. Conte che adesso ci racconta la Repubblica teme i numeri in Senato e chiede tempo al Partito Democratico. La preoccupazione per il Movimento 5 Stelle fuori controllo e per possibili ribaltoni a Palazzo Madama. Sente Zingaretti apre a modifiche insi immediate dei decreti Salvini. Ma sul MES rinvia ancora. Visto che siamo sulla Repubblica vi segnalo questo colloquio con il ministro della Salute e Speranza. Riguarda appunto naturalmente la questione del Covid. Dice l'ora della resistenza ma la cura del virus è vicina. Capisco la preoccupazione delle famiglie ma niente panico. Dobbiamo fidarci dei medici. In primo luogo di cura è la casa. Abbiamo alzato la spesa per l'assistenza ma vogliamo fare di più. Ci spostiamo sul Corriere della Sera per tornare a parlare delle questioni politiche. Per quanto riguarda i 5 Stelle vi segnalo questa intervista che trovate oggi sul Corriere della Sera all'ex ministro. Lezzi rischiamo di scomparire serve una nuova leadership. Non l'intesa con la sinistra Luigi critica crimi. Non è sempre dice colpa degli altri. E dice appunto credo che l'errore sia stato non organizzarle per tempo. Riferito alle regionali c'era un anno intero. Certo c'è stata l'emergenza Covid ma questo non giustifica il ritardo. Non credo che crimi abbia colpa. E lui ha fatto un buon lavoro in un momento concitato. Di Maio inoltre non dice come l'avrebbe organizzata. La responsabilità non è sempre di qualcun altro. Nelle riunioni tra i vertici Vito non è mai mancato. E poi dice il problema non sono le alleanze. Abbiamo perso in Puglia e in Campania. Basta guardare la Liguria e alcuni comuni. La sconfitta riguarda soltanto il Movimento 5 Stelle. E poi per quanto riguarda gli stati generali dice bisogna farli immediatamente. Porre all'ordine del giorno temi e nuovi obiettivi. Bisogna poi pensare ad una nuova governance. Sempre dal Corriere della Sera vi segnalo invece questa intervista. In area dem a Bettini un patto politico con gli alleati che dia certezze. Per tutta la legislatura si dia pace a chi voleva morto il nostro partito. Noi siamo interessati, non siamo interessati a poltrone o a equilibri di potere. Dice Bettini in questa intervista. Dice nel voto si è espressa la cosiddetta vocazione maggioritaria del Partito Democratico. Rispetto Renzi, Calenda, Bonino. Ma ammettano che i loro progetti sono senza prospettiva. E poi per quanto riguarda l'ipotesi di un rimpasto dopo questo voto. Bettini precisa. Se il PD non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi, piuttosto da tempo indichiamo l'esigenza di un rafforzamento politico e programmatico della coalizione. Torna Conte, spetta al Premier, trovare i modi per realizzarlo. Altra intervista che troviamo oggi sul Corriere della Sera è quella a Matteo Salvini. Al sud scelte sbagliate servono candidati da imprese e professioni, dice Conzaia. Sottolinea in questa intervista nessun problema. Nelle liste in Veneto sono tutti leghisti. Meloni finché c'è una crescita interna. La coalizione dice è un fatto positivo. E poi ancora Conte ci deve ascoltare. Non può governare con una forza scomparsa e contro una coalizione che esprime 15 presidenti di regione su 20. La maggioranza esce rafforzata dai risultati. Vedo che il Movimento 5 Stelle è sparito da 5 regioni italiane. Gli sconfitti alla fine saremo noi gli errori degli altri. Se una squadra perde, perde con scelte che sono di tutti. Comunque non commento gli errori degli altri e men che meno quelli degli alleati. E questi appunto alcuni dei temi trattati da Salvini in questa intervista. Salvini a cui risponde in maniera indiretta Toti, confermato governatore in Liguria, lo ricordiamo. Matteo non è capace di gestire la coalizione. Da lui aspettavo brindisi e non musilunghi. E dice, metto l'esperimento Ligure a disposizione del centrodestra nazionale. Una gamba moderata non succube dei sovranisti può unire le varie anime. Non ho cannibalizzato la Lega, un successo anche loro. Ma un candidato premier deve avere a cuore i numeri della coalizione. Non solo quelli del suo partito. Lo dice Toti in questa intervista che troviamo sulla stampa. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'intervista che abbiamo appena visto di Toti. Ci spostiamo invece adesso sulla stampa, da quale vi volevo segnalare l'intervista a Orlando. Eccolo qui. Il vice segretario del PD. Ora via le leggi di Salvini, poi discuteremo il resto. Senza MES consegniamo pezzi di sanità ai privati, avverte Orlando nella sua intervista. Non facciamo nessun triunfalismo, ma il PD è il primo in tutte le regioni, escluso il Veneto. E poi dice, non bisogna avere paura della sfida dell'alleanza con i 5 Stelle. Non penso che l'esito sia la grillizzazione. In questa alleanza il PD non si è indebolito. Così ora possiamo essere più determinati. Altra intervista che vi segnalo sempre dalla stampa è quella a Maria Elena Boschi. Non ci spaventa la soglia del 5%. Io ministra, dice, non succederà ora le riforme. Tempo fino al 2023, dice la Boschi in questa intervista. Altra intervista, vedete, ce ne sono tantissime oggi sui giornali. Quella a Alfonso Bonafede, ministro della giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle. Al governo, che dice oggetti gli stati generali sui valori e non sulle etichette. Poi dice, nelle elezioni locali siamo sempre in difficoltà. Gli stati generali utili anche per questo. Andiamo un attimo rapidamente anche al messaggero. Perché volevo farvi vedere l'interpretazione che c'è per quanto riguarda quello che sta accadendo in casa 5 Stelle. L'offerta dei 5 Stelle a IDEM per non ricandidare la RAGI. Questo per quanto riguarda Roma. I vertici grillini al PD con Zingaretti vicepremiera, le urne anche in Regione. La Lombardi in corsa come governatore e un nome condiviso per il Campidoglio. Questo sarebbe, diciamo così, il progetto. La sindaca, un intralcio per la celebrazione delle nozze tra alleati. Pesa il veto del Nazareno. L'ultima intervista che vi faccio vedere rapidamente. L'intervista alla Meloni sul messaggero Matteo a Palazzo Chigi. Andrà chi di noi prenderà più voti. Ed è tutto anche per la rassegna stampa di oggi. E adesso a te Paolo per le prisioni del tempo. Grazie Emanuela, buongiorno. Questa è la situazione di questa mattina, simile a quella di ieri. È un tipo di tempo instabile, perché vedete che le zone contemporanei sono molte e sono però relativamente ristrette e si muovono. Questo da quel tipo di tempo che abbiamo avuto anche ieri e che avremo anche oggi verrà a dire che potremmo dire azzardo. Tutte le zone in cui ieri c'è stato il temporale, poi c'è stata anche la schiarita, c'è stato anche il sole. Tempo di marzo, si potrebbe dire. In realtà è una fase che si trasformerà nei prossimi giorni. Questo lo vedremo meglio alle 8. Intanto vedete che sono presenti i temporali anche al sud. Il modello che vede, prevede le piogge in tutta la giornata di oggi sembra trascurare un po' questa zona, mette piogge deboli. Invece abbiamo visto che c'è qualcosa di più. Invece come si sale al centro e al nord, vedete che le zone in giallo o in rosso con contemporanei ci sono. Tendono come linea a esserci meno zone di questi temporali, ma più concentrate in qualche modo. Vediamo la previsione per la giornata di domani. Vedete che calano in qualche modo, quindi c'è un'attenuazione temporanea. E però guardate che zone cominciano a ricomparire al nord molto più estese e lì comincia a essere un tipo di tempo diverso. E soprattutto la giornata di venerdì in cui il maltempo diventa molto forte al nord, soprattutto sulla parte centro-orientale. Vedete che non sono più le piccole macchie, i piccoli punti. È una zona di temporali forti e un'altra zona, prende Sardegna, Medio Tirrenio si affaccia al sud. Insomma, avremo fra venerdì almeno il sabato delle giornate di maltempo molto intenso. Per quanto riguarda oggi, vediamo le temperature minime che sono scese un poco, ma sono ancora a livello, non si può parlare di freddo per intenderci. e lo stato dei mari che comincia a dare qualche segno, perché dai e dai, con tutti questi temporali, insomma, il movimento ce n'è e quindi il Mar Ligure, il Tireno Settentrionale, mossi o molto mossi, basso Adriatico, molto mosso, mosso, tutto lo Ionio, lo stretto di Sicilia, resistono le zone inceleste, che sono quelle dei mari tranquillissimi, ma, come dire, hanno il destino segnato anche loro. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Lagarulli. A più tardi.